Ciao ragazze, allora nuovo video, questo come avete letto dal titolo sarà il video riguardante tutte le novità della settimana Lidl sfoglieremo quindi insieme tutto il nuovo volantino ma in più questa volta devo farvi vedere anche alcune cose che mi sono arrivate da Lidl e alcune cose che naturalmente quando sono andata giovedì ho acquistato in realtà è tutto il contenuto di questa scatola riguarda Lidl Viaggi ma naturalmente prima di vedere questa parliamo di tutti i nuovi prodotti di questa settimana questa settimana troviamo da volantino tantissimi prodotti, vedete, formato XXL ossia formato convenienza con promozioni su frutta, verdura, ma anche tantissimi altri alimenti dal lunedì 21 maggio infatti troviamo i pannolini lupi lupi taglia 4 e 5 in promozione a 13,98 euro anziché 15,98 con ben 2 euro di sconto ma anche le salviette detergenti umidificate per neonati con la confezione da 100 salviette a 1,79 euro gusto e benessere per tutti con alcuni prodotti bio in promozione in primis i cristini al farro bio a 1,49 euro bevanda vegetale a base di riso bio 89 centesimi e poi c'è un vero e proprio volantino che io non ho ancora visto in filiale il nostro speciale giusto e benessere barrette energetiche tutte da 2,19 euro in su ancora da lunedì 21 maggio troviamo poi nuovi prodotti da uomo acchiolivergy quindi polo, bermuda, sandali, t-shirt, jeans, camice, cinture eccetera e naturalmente anche da donna con maglie molto molto carini questi top soprattutto le gonne i segnali inoltre a 9,99 euro questi bellissimi orologi cioè guardate sono veramente molto molto carini anche di più di quelli che escono ultimamente per le cartopazzose come me abbiamo poi non solo scuola quindi tantissimi prodotti del marchio United Office con evidenziatori, set adesivi, cartelline, matite, temperini, taglia carta insomma davvero tantissime cose tantissimo intimo e smara con reggiseni, body, hip da donna modellanti e poi abbigliamento crivit naturalmente per gli sportivi sia uomo che donna e i prezzi sono davvero fantastici ma non mancano anche le promozioni lupilu questo ragazze è il volantino della prossima settimana ma volevo farvi vedere un po' di cose che ho acquistato proprio oggi finalmente è tornata anche da me naturalmente da PH bio come da volantino della scorsa settimana e sono riuscita a trovare finalmente l'intimo da ricetta biologica della PH bio rosmarino, timo e menta delicato con estratti 100% bio la confezione contiene 250 ml e ha un pao di 6 mesi questo è il famoso penso ormai voi tutte l'avete provato era un tipo rimasta l'unica a non averlo ancora acquistato appunto è il detergente intimo della PH bio che alla fine è l'unico prodotto che mi era rimasto da provare voglio sentire, sono curiosissima della profumazione ha un profumo molto molto fresco e come vedete ha un prodotto in gel fatemi sapere anzi voi come vi siete trovati con questo detergente intimo io non vedo l'ora di provarlo e poi ho trovato un costume cioè in realtà ho trovato solo la parte sotto del costume ed è questo diciamo a vita alta la taglia secondo me è un pochettino grande perché è una 46 italiana poi io lo posso rigirare insomma lo metto come voglio e anche il tessuto devo dirvi che non è niente male e mi sembra di averlo pagato questo 4 euro e 99 questo 2 euro e 69 o 79 ma adesso vi faccio vedere naturalmente il contenuto di questo pacco nel Lidl viaggi stamattina infatti ero andata appunto da Lidl a fare il mio solito giro del giovedì e tornando a casa ho trovato questo pacco ad aspettarmi io non sapevo assolutamente che doveva arrivarmi e appena l'ho aperto sono stata davvero contentissima perché ho trovato dei prodotti davvero molto interessanti e che soprattutto voi mi avete chiesto di parlarvene e di provarli questo sarà un semplicissimo video spacchettamento ma poi avevo pensato appunto di parlarvi bene di tutte queste cose che so per farvi vedere in un video specifico ma adesso capirete bene praticamente nel pacco ho trovato tantissimi solari Sien in primis abbiamo il Sien San spray solari per il corpo con texture trasparente invisibile spf 20 protezione media non unge si assorbe rapidamente ed è resistente all'acqua la confezione contiene 250 ml di prodotto e ha un pau di 12 mesi ora in questo video non mi sembra il caso di star comunque a parlarvi bene degli ingredienti e dell'inci per questo avevo pensato di farne uno specifico in cui vi dico bene quali prodotti fra questi hanno un buon inci e volevo aggiungerne anche altri che ho provato comunque durante la scorsa estate e quest'anno naturalmente fatemi sapere se siete d'accordo e se per voi è una buona idea ho trovato la crema solare per bambini FP50+, protezione molto alta senza profumo e resistente all'acqua 100 ml di prodotto a differenza di quella precedente che era uno spray questa è una classica crema solare e ha un pau di 12 mesi l'olio solare spray con texture trasparente abbronzatura intensa SPF6 protezione bassa questo già lo avevo provato lo scorso anno e contiene 250 ml di prodotto con un pau di 12 mesi quella crema solare sport SPF30 protezione alta con ultra resistente all'acqua è una classica crema solare contiene 75 ml e ha un pau di 12 mesi ed infine l'ultimo prodotto contenuto nella scatola è il Tien San lozione dopo sole molto molto grande infatti è da 500 ml e anche questa ha un pau di 12 mesi infine sono stati davvero gentilissimi e Lidl mi ha inviato anche queste bellissime ciabattine qui con scritto Lidl Viaggi e adesso vi dirò anche perché in quanto c'è anche una sorpresa per tutte voi un materassino gonfiabile sempre marchiato Lidl Viaggi blu soprattutto molto utile in spiaggia e questo bellissimo beauty case sempre con scritto Lidl Viaggi in cui all'interno ho trovato anche questa targhettina magari per una borsa o per una valigia e la penna Lidl Viaggi e a proposito del servizio Lidl Viaggi mi è stato inviato come potete vedere anche un codice sconto che vi lascio qui in sovraimpressione e che troverete da adesso in poi anche giù nell'info box per avere una riduzione del 10% su qualsiasi acquisto sul sito Lidl Viaggi.it può essere utilizzato entro il 15 settembre 2018 comunque poi troverete sempre giù nell'info box tutto quanto di modo che potete vedere bene comunque con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto io vi mando un bacio grande ricordatevi come sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto di iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video ciao